Entriamo nel vivo di un tema che deve essere bene comune, è bene comune. Di cosa si tratta? Iniziamo a scoprirlo insieme con il video che proiettiamo adesso. Pare che questa mia firmetta qui valga oro. E Marco non è in grado di fare nulla senza. Giulio invece è uno scialaccone. Non riesce mai a mettere via i soldi per il mutuo. Per fortuna ci sono io con il mio super mini stipendio. No, noi invece conto unico, firma unica. La sua. In fondo siamo una cosa sola. Se in questo spot non hai percepito alcuna forma di violenza, ora sai perché è così difficile combatterla. L'indipendenza economica è un diritto. Difendiamola insieme. Difendiamola insieme e parliamone ascoltando la presidente e fondatrice di Global Thinking Foundation, Claudia Segre. Buongiorno a tutte e a tutti. Grazie per essere qui. Ti invito, secondo anno qua al Festival del Futuro. Permettemi solo di leggere due cose. Pubblicate su YouTube a commento di questo video. Grazie. Ricordatevi che un giorno sarete vecchie, senza una famiglia, senza nessuno che se ne freghi di voi. Senza nessuno e quindi starete male e non riuscirete più a fare certe cose senza lavoro perché ci sarà qualcuno più giovane e più preparato di voi. Da sole, con la vostra indipendenza e nient'altro. Nessun uomo vi vorrà. Probabilmente già ora stanno distanti da voi. E poi, ma invece il fatto che molto spesso se un uomo non porta a casa uno stipendio degno venga considerato un uomo minore e si suicida perché il pensiero sociale che l'uomo debba procurare la maggior parte dello stipendio è ben radicato e se un uomo non rispetta questi canoni e discriminato, di questo non ne parlate, non è anche questa violenza. Bene, questo è quello di cui parleremo oggi, di come l'autodeterminazione e l'indipendenza economica delle donne ancora fa paura senza ragionare il fatto che ciò viene da una scarsa partecipazione lavorativa, solo il 52% rispetto al 67% di media europea, quindi stipendi inferiori, pensioni inferiori, una vita più lunga da finanziare e una partecipazione sociale da affermare con i propri diritti. Ed è per questo che la fondazione, Global Thinking Foundation, lavora per la diffusione dell'educazione finanziaria e digitale per frenare l'abuso finanziario e per prevenire la violenza economica. Il disegno di legge che abbiamo visto approvato proprio l'altro giorno, grazie al lavoro del Comitato Tecnico Scientifico del quale mi onoro di far parte, dell'osservatorio che ha lavorato alla cremente, è un passo per rafforzare il codice rosso ma adesso ci vuole un impegno alla prevenzione. E lavorando con roba da donne abbiamo cercato di mappare questa situazione che crea un'ulteriore discriminazione in una società che deve ritrovarsi in un dialogo, in una condivisione. Laddove, come vedete, oltre il 30% di donne di fatto dipendono dal proprio partner o da un familiare. Sono 2 milioni le famiglie monogenitoriali guidate solo da donne. Sono 500 mila le famiglie che vivono sotto livello di povertà. Quindi molto più esposte a tutte queste situazioni che riguardano il depauperamento delle risorse economiche e l'innesco tramite la violenza economica di altre forme di violenza che ricordano un costo sociale per il nostro Paese. Overall, violenza di genere, violenza contro le donne di 39 miliardi all'anno come misurato dall'indice age europeo. Bene, e vi qui veniamo al problema. I conti correnti. Prima del Covid, il 37% di donne non aveva un proprio conto corrente, secondo episteme. Dati ripresi dal CNEL, abbiamo rifatto questa ricerca su 1.400 donne dopo il Covid. Fortunatamente siamo scesi dal 37% al 18%, quindi un netto miglioramento. Ma questo perché, parliamoci chiaro, il diritto di famiglia è stato attuato e ha modificato di fatto l'impianto del Codice Rocco sul ambito della, diciamo così, della patria potestà nel 1975. Solo allora le donne hanno potuto aprirsi autonomamente un conto da sole. Quindi non dobbiamo lamentarci del fatto che c'è un problema di competenze economiche e finanziarie carenti nel nostro Paese con una differenza di genere l'unico Paese in Unione Europea, ma anche perché c'è un retaggio che ci portiamo dietro nel lavorare sulla nostra indipendenza economica. E quindi il fatto anche che a relazionarci nei confronti delle banche, dei consulenti, solo il 20% dei consulenti sono donne e cambiare lo stereotipo e il modo di agire nei confronti delle famiglie e delle donne, magari proponendo il Bancomat solo alla moglie e la carta di credito al marito, cosa che succede piuttosto di frequente, piuttosto che parlando solo delle spese straordinarie, assicurative o investimenti con l'uno piuttosto che l'altro. Ecco, tutto questo si può cambiare perché la società è cambiata, perché abbiamo ottenuto, grazie a battaglie fatte negli anni 70 fino agli anni 90, ricordiamo che lo stupro come reato nei confronti della persona è solo molto recente e manca ancora in questo Paese la definizione di reato di violenza domestica, come delle altre violenze insite nella Convenzione di Istanbul, entrata in vigore il 1 di ottobre grazie a un intervento del Consiglio europeo e per superare il boicottaggio dei Paesi, quali la Turchia, che non volevano che fosse attuata. Quindi lavoriamo, come sapete, sul codice penale, quindi sui maltrattamenti, abbiamo un problema evidentemente per quale si deve intervenire sulle sanzioni non essendoci delle fattispecie di reato e tantomeno quello economico e quello dell'abuso finanziario. Veniamo poi a un altro argomento che riguarda le famiglie, perché secondo me è il problema centrale. Abbiamo sentito e continuiamo a sentire anche alla luce dei recenti femminicidi che a nostro avviso hanno nella distruzione di valore economico all'interno delle famiglie un aspetto cruciale, importante, un innesco importante. La strage di Alessandria, dove è morta una donna, suo figlio e la suocera, è stata innescata anche da un indebitamento di oltre 50.000 euro che è stato evidenziato dall'Agenzia delle Entrate e che ha visto il capofamiglia non riuscire a superare questa vergogna, questa situazione, quindi non tirarsi sulle maniche e dire ok, adesso farò qualcosa, cercherò di aiutare la mia famiglia a uscire da questa situazione, non ho pagato l'IVA, ho fatto degli errori, invece ha fatto una strage. Quindi il fatto di, come vedremo dopo, avere una difficoltà nel parlare di denaro, nell'attribuire al denaro un aspetto valoriale, che sono le decisioni di ogni giorno, che sono il nostro sostentamento, che sono la condivisione di un reddito di lavoro, di risorse economiche, sulle cui decisioni si deve decidere insieme in famiglia, si deve parlare con i ragazzi. Ecco che il fatto che le decisioni siano avvocate solo a qualcuno, anche perché molto spesso magari le deleghiamo, nasce proprio dal fatto che questa è la costruzione sociale che abbiamo vissuto fino adesso. Collaborando all'interno di un'audizione col Parlamento francese tre anni fa per la legge Marie-Pier-Rixen, abbiamo portato gli esiti del nostro modello all'interno proprio dell'audizione del Parlamento francese, una legge sull'uguaglianza economica che è un faro nei confronti di questi temi. Perché oltre agli interventi sulla parità salariale e su altre distorsioni in termini di parità di accesso al denaro, c'è un aspetto molto importante e cioè che negli anni si obbligherà le aziende a pagare lo stipendio sul conto corrente della lavoratrice, cosa che in questo momento non abbiamo in Italia. Se ci lamentiamo che vi sono il 18% di donne che non hanno un proprio conto corrente, che non ci sono competenze economiche e finanziarie sufficienti a definirne una piena autodeterminazione, offriamogli la responsabilità propria di gestirsi i propri erediti da lavoro, che poi dopo li voglia devolvere o condividere, avere un conto comune per le spese ordinarie, è tutto perfettamente normale, ma partiamo dalla propria responsabilità che abbiamo ciascuno di noi, uomini e donne, di iniziare a imparare a gestirci il denaro, a esserne responsabili, a parlarne. Infatti nella ricerca si vede chiaramente come a parlarne se ne parla in famiglia maggiormente, molto poco con i figli, solo il 30%, molto meno sul lavoro. Quindi vuol dire che ancora questo tabù del denaro è un problema che dobbiamo affrontare e lo vediamo molto spesso ai nostri sportelli quando riceviamo donne che non hanno idea o contezza della gestione delle risorse familiari, donne che fino adesso hanno lasciato ad altri gestire i propri soldi e magari si ritrovano in una situazione di vedovanza a superare dei debiti pregressi. Si trovano ad aver fatto firme, fideiussioni, garanzie senza capirne la portata e quindi dovendosi ritrovare a pagare dei debiti di altri. Ed è per questo che siamo nelle scuole con un progetto Libere di Vivere, ieri eravamo a Roma con la Wilka, nei giorni scorsi Foggia, Taranto, oltre 40 tappe del progetto Libere di Vivere per parlare di persone, uomini e donne, che devono essere liberi di fare il proprio percorso economico, sociale, con gli stessi diritti, con la stessa parità, anche quello di poter preservare, tutelare il proprio denaro e poterselo gestire in autonomia. Come vedete stiamo parlando di stanze che non hanno un costo, ma hanno semplicemente un senso del fatto che la società è cambiata, che la partecipazione lavorativa delle donne è effettiva, che è un motore di sviluppo di questo Paese, che fa parte di questo futuro possibile e migliore di un progresso sociale nel quale le donne, che sono più della metà della nostra popolazione, sia italiana che mondiale, non possono essere lasciate da parte. Quindi anche il fatto che sulle materie dei figli, le decisioni che vengono prese per il loro studio, per quelli che è il loro studio anche all'estero, l'ambito assicurativo che ha degli spazi enormi da questo punto di vista per tutte le problematiche sociali che stanno emergendo e riguardo la salute mentale, riguardo le violenze ed anche i femminicidi. Sì, proprio i femminicidi perché questi non c'è nessuna, se ti gettano dell'acido addosso, se ti ammazzano, che cosa rimane? E il problema non sono quelle 130-140 donne che si cerca di smontare nei numeri per ridurre il fenomeno sociale a niente. Il problema sono quei 2.000 orfani di femminicidio che pesano con un costo sociale enorme, ma sono un costo umano inaccettabile. Sono le oltre 250.000 persone che si rivolgono agli sportelli per problematiche di violenza domestica. E quindi è questo fenomeno, nella sua complessità, che deve essere misurato, perché altrimenti non esiste, considerato dall'industria finanziaria assicurativa e anche presa d'atto da parte di una concertazione sociale che non vuol dire, scusate, andare in, e lo dico anche ai ragazzi, vanno benissimo le battaglie in piazza. Ma ricordatevi che non è sventolando il fantasma del patriarcato che grazie all'abolizione del codice rosco abbiamo messo da parte. Dobbiamo fare le battaglie per le cose che possiamo raggiungere, per quell'uguaglianza di diritti delle donne, che sono diritti umani, come dice la Convenzione di Istanbul. E quindi veniamo al discorso proprio del parlarne in famiglia, come vi dicevo, perché è importante una cultura finanziaria per i ragazzi e le ragazze, che sappiamo appunto esattamente come gli adulti in Italia vedono questo differenziale di genere, cosa abbastanza anomala, e soprattutto perché è importante condividerlo, perché è importante evitare quell'isolamento dei ragazzi che di fronte a certe sfide, noi abbiamo fatto un grosso progetto sulle dipendenze comportamentali, dipendenze no grazie, perché trading speculativo, shopping compulsivo e gioco d'azzardo, per non parlare del fatto dell'accessibilità del dark web, sono tre problematiche che crescono maggiormente delle dipendenze con sostanze, perché da dopo il Covid è molto facile accedere a scommesse, sognare col bitcoin di raddoppiare i propri guadagni, oppure all'interno di una relazione tossica, e quindi anaffettiva, di violenza, cercare quell'indipendenza economica proprio attraverso questo tipo di scorciatoie finanziarie. Ma questo tipo di scorciatoie finanziarie ci espongono ulteriormente, perché sappiamo che un uomo ludopatico è accolto, assistito, aiutato, anche quando magari porta via i risparmi dei bambini dai loro salvadanai, perché si comprende, perché è giusto reintegrarlo nella società. La donna ludopatica è una cattiva madre, è una donna tossica, è una donna cattiva, è una donna che non si recupera, è una donna che ha fatto un torto ai figli, e quindi non denuncia, e quindi non parla, e quindi scivola lentamente in questo tipo di dipendenze senza che sia più recuperabile, oppure creando un danno a se stessa, oltre che agli altri che sono con loro. E quindi tutte queste forme di dipendenze, è vero, voi mi direte, ok, adesso però c'è la flessibilità del lavoro, adesso le donne e gli uomini hanno la possibilità di condividere l'economia di cura, di condividere anche la gestione della famiglia, degli anziani, sì, è vero, e questo ringraziamo le imprese per questo, ma solo se le imprese si metteranno in prima persona a lavorare sui permessi genitoriali, trovando un accordo con lo Stato perché siano ugualitari, se si impegneranno sulla parità salariale, così come da legge che ha rafforzato un articolo che era già nella nostra Costituzione, forse cambieremo le cose. Quindi è un impegno di imprese, società, famiglie, per ripristinare proprio questo tipo di dialogo, parlare di soldi, parlare di famiglia. Abbiamo una legge che è passata nel 2022, che parla appunto di intelligenza emotiva, è una legge che dovrà entrare in vigore in Italia, sul quale si è discusso molto. Ricordiamoci che questa legge e questo tipo di opportunità da 30 anni c'è già in Danimarca, quindi paesi dai quali possiamo prendere ispirazioni e che hanno già fatto della cultura del rispetto, della parità di genere e dell'intelligenza affettiva, un caposaldo del lavoro che si fa nelle scuole. E io riparto da lì perché è inutile che parliamo di partecipazione lavorativa delle donne a Piavino la scuola ferma agli anni 60, non solo in termini di programmi scolastici, ma con tre mesi di ferie che due genitori che lavorano come fanno a gestirsi e tutto si scarica ovviamente sui servizi sociali, servizi sociali dove sappiamo manca il personale, mancano i nidi e tutto diventa evidentemente un'economia circolare in questo caso purtroppo non virtuosa. Quindi capite come dobbiamo dire abbiamo acquisito dei diritti grazie a questi diritti che abbiamo acquisito con le battaglie degli anni 70 adesso non stiamo a sventolare i fantasmi, lavoriamo su quello che abbiamo perché continuare a parlare di Agenda 2030, di sostenibilità, di ESG, di direttiva CSRD e quindi di responsabilità sociale, se poi non siamo noi a prenderci questa responsabilità sociale nel dialogo intergenerazionale con i ragazzi e con le ragazze, nel metterci al loro ascolto perché i fenomeni come i NIT dove le ragazze hanno superato i ragazzi, i fenomeni come gli hikikomori, i fenomeni come i giovani delle periferie che noi vediamo, ieri eravamo alla LUMSA a parlare proprio di rigenerazione delle periferie, quanti minori che poi diventano maggiorenni che sono stati abbandonati. Questi fenomeni li vediamo non a Canicattì, lo vediamo nella periferia di Milano, lo vediamo poco lontano dal centro delle grandi città. E poi veniamo a regioni come questa, dove noi abbiamo lavorato tanto, continuiamo a lavorare, e dove ancora abbiamo delle grosse resistenze dal passaggio generazionale delle terre in avanti. Quindi, come vi dicevo, a mio avviso, lavorare su una condivisione di diffusione di cultura finanziaria vuol dire non fare il gioco delle banche, perché qui non si tratta di fare il gioco del nessuno, ma metterci tutti quanti in gioco per cambiare la situazione attuale e dare una possibilità alle nuove generazioni di non subire quel cambiamento in negativo della società dove ci sono solo tifoserie, gli uno contro gli altri. L'abbiamo visto e personalmente subito in questi ultimi 40 giorni, cosa che non vorremmo più vedere, più sentire e che non avrebbero neanche dovuto sentire altri prima di noi. Per questo motivo torno al discorso che quando parliamo di donne che hanno subito la violenza economica, secondo varie ricerche, andiamo dal 20% al 30%, parliamo di donne escluse finanziariamente. Per questo che noi abbiamo iniziato il nostro lavoro, partendo dal lavoro fatto all'Ox, al Fondo Monetario Internazionale, che è stato fatto nei paesi emergenti e che adesso invece diventa un'emergenza quando dopo il Covid siamo tutti un po' nella stessa barca in termini di situazione post-iperinflazione e ovviamente rialzi dei tassi. E abbiamo visto delle reazioni che arrivano e delle opportunità che arrivano dal digitale, prima di tutto quello delle piattaforme digitali di contenuti che vengono diffusi, ma anche qui l'utilizzo delle piattaforme da parte nostra è avvenuto, come nel caso di GLT Safe and Sound, a una piattaforma per la sicurezza digitale dei ragazzi, per parlare nelle scuole, come difendere il proprio dato, come evitare che la propria immagine possa essere, come ci capita di sentire, da parte di alcuni madri, i nostri portelli, oggetto di ricatto su certi tipi di immagini che dall'internet non togli. Su tutte queste problematiche bisogna cercare di parlare, ritrovare, dicevo, questo dialogo non tra tifoserie, ma tre generazioni. La nostra generazione, millennials, ha sbagliato delle cose? Certamente in termini di educazione e relazione, tutti buttati sul lavoro, tutti buttati nella frenesia, stiamo riconquistando degli spazi. Questo è molto importante, ma non lo potremo fare se non mettiamo e non prendiamo on board insieme a noi, tutte quelle donne, quelle ragazze, quei ragazzi che sono tagliati fuori, perché la crisi ambientale sappiamo benissimo che ha un soggetto maggiormente colpito, le donne e le ragazze, prese all'interno di un ambito di migrazione economica, perché la crisi economica ha come soggetti più deboli coloro che sono maggiormente tagliati fuori dalla società, ancora una volta, donne e ragazze. Ma non siamo qui per fare le vittime, siamo qui per dire che il nostro contributo alla società, come c'è stato prima, c'è stato dopo e sempre ci sarà, viene solamente nel momento in cui ci si riesce a prendere per mano e a lavorare insieme, anche perché siamo certi che quell'intelligenza artificiale senza la nostra intelligenza relazionale non funziona e non è niente, tanto è vero che le risposte di CiaGPT, bisogna dire, spesso insomma fanno un po' acqua da tutte le parti. Per questo motivo quindi lavorare sul territorio, mettersi all'ascolto, portare una risposta ai bisogni con contenuti ibridi che arrivano attraverso anche video, spot pubblicitari, cercano di attivare le persone, cercano di far ragionare i ragazzi. Nelle scuole quest'anno, l'anno scorso 31 istituti, 8100 studenti e quest'anno abbiamo superato i 60 istituti e si è lavorato sia nelle scuole a parte i piccolini con il Lego e la sostenibilità, si è lavorato nelle scuole, nelle medie e nelle superiori proprio col programma di educazione civile e finanziaria di Libere di Vivere e i ragazzi danno delle risposte forti, chiedono perché ci sono dei differenziali di igiene nel nostro paese, che cosa si può fare, da dove nascono queste disarmonie di opportunità perché è questo che dobbiamo combattere, lavorare socialmente per cambiare un impianto sociale che non sia adeguato a quello che abbiamo conquistato e che ha perso nel dialogo di genere un obiettivo di progresso sociale ben delineato all'interno di questa cornice di Festival del Futuro già negli anni e soprattutto quest'anno. Quindi io vi lascio ringraziandovi di questa opportunità che mi avete dato di parlare di un tema di autodeterminazione e indipendenza che nell'ambito della prevenzione è un'arma fondamentale per disinnescare il circolo della violenza, delle violenze sulle donne e per far sì che si lavori insieme come società per cambiare le cose senza scontrarsi ma semplicemente camminando insieme prendendosi carico gli uni degli altri in un ambito di ritrovare una società veramente inclusiva non solo nelle parole ma nei fatti perché Giulia non è morte in vano le altre donne non sono morte in vano e noi il 25 novembre lo celebriamo tutti i giorni con il nostro impegno e grazie all'impegno di tutti. Grazie Claudia Segre io la ringrazio per aver ricordato l'appuntamento di domani perché domani appunto il 25 novembre vogliamo ovviamente che sia vogliamo ricordarlo a tutti insomma che per noi donne e per tutta la società in generale è un appuntamento importante perché bisogna combattere ogni giorno e come fa lei fare ogni giorno iniziative che possano evitare che si ripetano certe tragedie e se questo passa anche dall'indipendenza anzi passa dall'indipendenza economica ben venga tra l'altro noi nei confronti delle nuove generazioni riponiamo una grande fiducia una grande speranza però come lei ci ha elencato molte volte nelle famiglie non si parla di certe problematiche quindi è giusto che nelle scuole ci sia questo incontro perché si può incontrare la persona che ti illumini anche al di fuori della propria famiglia ci si spera staccarsi un po' dal cellulare e tornare all'ascolto del prossimo e dell'altro che ha bisogno anche di noi io la ringrazio anche perché adesso avremo un panel che parla proprio di come gestire il patrimonio quindi invitiamo anche le donne ad ascoltare ovviamente i consigli grazie Claudia per il suo intervento grazie davvero